Allora ragazzi, oggi troviamo un pronostico live direttamente dallo Stadio di Imperio di Roma. Troviamo un'analisi di pronostico del Gerti. Buonissimo, quindi proviamo a guardare i dati prima dell'inizio della partita per vedere se c'è qualche speranza di vincere questo derby. Benissimo, eccoci all'interno dell'app di OneFootball, app gratuita, vediamo il countdown per il derby. Trovate il link per scaricarla nella descrizione, 46 minuti prima che il match cominci, apriamo il superfoglio e vediamo cosa ci dice. Sottopondo l'atmosfera incredibile dell'Olympico. Abbiamo già analizzato la partita e abbiamo visto insomma che la probabilità dell'esito goal era quella un pochino più attendibile. Over a 1,53, attualmente a 1,57, esito goal attualmente a 1,50 e quote sulla 1x2 restano molto alte anche se si abbassano leggermente in favore della Lazio. Io qui come esito bomba avevo provato a mettere una X primo tempo perché comunque immaginando un derby teso come al solito ci vedevo la possibilità di una bomba sulle X primo tempo. Un altro dato che vi avevo già fatto vedere era quello del goal al 68% e dell'over al 70%. Sono dati relativamente alti se consideriamo comunque che il derby ha anche tutto un aspetto psicologico che ovviamente va tenuto in considerazione. A 40 minuti dall'inizio del match io mi sento di confermare l'esito goal come giocata adatta per il derby. L'esito 1 purtroppo non c'è nei numeri ma fortunatamente non c'è neanche l'esito 2. Quindi ribadisco l'opportunità che potrebbe esserci l'1-1 come risultato. È ovviamente un derby quindi è una partita particolarmente difficile però qui insieme ai tifosi spero che sia la visione adatta quantomeno non uscire a sconfitto. Vi vediamo in un prossimo video. Anzi prima di salutarvi vi faccio rivedere l'atmosfera dell'olipo. Il parere dei tifosi come finisce? 3-1 con gol di Jacob. 2-0 secco. 2-0 per chi? Per chi? 2-0. Paro. 2-0 male.